Buongiorno a tutti e bentornati su uno scrittore sul web in borghese, perché oggi niente recensioni di libri. Oggi vorrei parlarvi di un argomento molto importante per tutti coloro che volessero approcciarsi al self-publishing. Nell'ultimo periodo, e questo venerdì, perché questo video dovrebbe uscire di mercoledì se non erro, ne parlerò più approfonditamente, mi sono messo ad ascoltare tutta una serie di video, dico ascoltare perché sono quasi soltanto parole, non c'è mai qualche contenuto video interessante, di alcuni canali che trattano appunto il tema del self-publishing, dando consigli, parlando del business del self-publishing attraverso Ghostwriter, eccetera, eccetera. E ho molto da dire al riguardo, ma la cosa, la cosa più grave in assoluto che ho notato è che, a parte qualche eccezione, se mi ricordo vi lascio un paio di video linkati qua sotto che sono anche abbastanza lunghi e dettagliati, eccetera, eccetera, a parte un paio di eccezioni, dicevo, su YouTube tendenzialmente viene data un'informazione errata. La domanda generica è, ma se mi autopubblico un libro su Amazon, qua in Italia, perché Amazon è in tutti i paesi del mondo, in gran parte dei paesi del mondo, e ogni paese ha la sua regolamentazione, ha le sue leggi ovviamente, qui in Italia devo aprire una partita IVA? E spesso e volentieri viene detto, no, perché Amazon vi dà le royalty come se foste autori e quindi ci pensa lui, eccetera, eccetera. Ma è sbagliato. La risposta è sì, dovete aprire la partita IVA. Perché? Perché se voi pubblicate attraverso un editore e poi l'editore si appoggia a un sito terzo di distribuzione come Amazon, ok? Allora passa tutto attraverso l'editore e il distributore. Quindi una volta che l'editore ha venduto tramite il distributore un prodotto, ok? L'editore riconosce a voi autori le royalties, che in italiano le royalties sono una cosa ben specifica, ok? Ovvero sono ciò che sussegue il diritto d'autore. Voi possiedete i diritti su una data opera, ne ricevete dall'editore le royalties, perfetto, che sono una tot percentuale a seconda del contratto che avete stipulato col vostro editore. Benissimo. Ma se voi pubblicate direttamente su un sito terzo come Amazon, che è distributore, siete voi a dover rispondere di tutti quelli che sono gli adempimenti fiscali relativi. E quindi sì, dovete aprire una partita IVA, perché l'errore viene comunemente generato dal fatto che sul sito di Amazon c'è scritto che Amazon vi conferisce delle royalties in seguito alla vendita del vostro libro. Ma non è così. Quelle non sono le royalties. Quello è tutto il prezzo esclusa alla parte di Amazon, perché Amazon è un distributore. Quindi siete voi editori di voi stessi, siete voi gli imprenditori. D'accordo? Questo è un problema di traduzione forse o di uso confuso dei termini da parte di un sito che tutto sommato comunque non è italiano come Amazon, che ha sicuramente un distaccamento italiano, una succursale italiana, tutto quello che volete, ma è un errore. Quelle non sono le royalties. Le royalties sono incluse nella parte che vi dà Amazon. Ma voi dovete pagarci le tasse, avete bisogno di aprire una partita IVA. Quindi questa è una cosa. Tra l'altro, in parentesi, mi viene da chiedermi tutte queste persone che diffondono questa informazione, che a loro volta pubblicano seguendo questa linea, sono tutte fuori legge. Sono tutte fuori legge perché non hanno mai pagato le tasse in maniera corretta. Hanno pagato le tasse sulle royalties a fine anno che, se non sbaglio, perché adesso io non sono né un commercialista né un avvocato, ovviamente, sono un forfè su quella cifra che pagate con la dichiarazione dei redditi, eccetera, eccetera. Se invece voi andate appunto a prendere il contratto di Amazon, che è lungo, che nessuno legge, è più chiaro. È logico che se voi andaste da un commercialista o da un avvocato a informarvi in merito, e ci sono anche commercialisti e avvocati che hanno dato questa informazione errata, e non dovete dirgli, su Amazon c'è scritto royalties, bla 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 bla, gli date il contratto, lo leggono, ed è più comprensibile. Rimane il fatto che sia torbida la cosa, è una zona grigia, nel senso che non è chiarissimo. Però, di base, molti hanno risolto la questione dicendo che sì, effettivamente sarebbe meglio aprire la partita IVA. E ricordatevi che la partita IVA va aperta prima di cominciare a vendere il libro, non dopo. Non c'è nessun limite dei 5.000 euro minimi, niente di niente. Voi aprite la partita IVA e poi vendete su Amazon. Adesso, il problema è, aprire una partita IVA è una rottura di palle pazzesca. È una cosa problematica, non lo voglio fare, eccetera, eccetera. Come faccio, come faccio, come faccio. C'è una soluzione, c'è una soluzione, una soluzione in cui io sono incappato del tutto casualmente attraverso la mia esperienza di autopubblicazione, perché nel momento in cui ho avuto la scelta se pubblicare direttamente tramite Amazon, tramite il mio libro, tramite You Can Print, o tramite il servizio di Lulu e tutto quello che volete, che però sono, uno è un print on demand e l'altro è print on sale, che sono due cose un pochino diverse, ma comunque non è questo l'argomento del video, ho scoperto che pubblicando tramite il mio libro, che è dove io ho pubblicato il mio romanzo, dove adesso tra l'altro pubblicherò la riedizione riveduta e corretta dopo aver fatto la prima esperienza del romanzo e ne pubblicherò un secondo, pubblicando tramite il mio libro, esiste la possibilità, oltre al circuito su il mio libro, appunto il loro sito internet, di pubblicare sulla filtrinelli.it, su IBS e poi volendo anche su Amazon, ma è questo il trucco, che non è un trucco, qui sta la risoluzione del problema, il mio libro fa parte di un gruppo editoriale, è un gruppo editoriale che stampa il vostro libro, che voi andate a mettere sul loro sito, se voi vi avvalete del loro servizio e andate a pubblicare il vostro libro, sia su delle catene italiane, che comunque noi siamo in Italia e non è male come cosa, sia da un punto di vista di sostenere l'editoria italiana, sia da un punto di vista di, ci sono persone che comunque acquistano tramite il mio libro, piuttosto che tramite IBS, piuttosto che tramite la Feltrinelli, o vanno alla Feltrinelli e ordinano un libro che non è presente sugli scaffali, e già questa è una cosa, ma volendo pubblicare appunto su Amazon, passate attraverso una casa editrice, passate attraverso una casa editrice, quindi il famoso ponte tra l'autore e il distributore Amazon, che è la casa editrice di mezzo, che assolve agli addempimenti fiscali, viene creato. Quindi il mio consiglio spassionato è, uno, state attenti di chi vi fidate, io stesso ve lo dico, metto le mani avanti, io non sono un avvocato, non sono un commercialista, non sono un esperto, ma grazie a Dio penso di non essere un totale idiota, so leggere, so ascoltare, so estrapolare delle informazioni, quindi questo è ciò a cui sono giunto. Non credetemi? Stampate il contratto di Amazon, portatelo al vostro commercialista o al vostro avvocato, e fateglielo leggere e vedrete che cosa vi dice. E io ho una vaga idea su quello che potrebbe dirvi, ce l'ho. Guardate i minuti scorsi del mio video e saprete più o meno che cosa vi potrebbe dire. Ciò detto, vi fornisco anche la soluzione, pubblicate sul mio libro, pubblicare su ilmiolibro.it, che non mi sponsorizza, magari, forse è vero che mi sponsorizza, sarebbe veramente bello avere una sponsorizzazione per queste cose, però ve lo dico così anche perché, ragazzi, io sono uno che fa recensioni di libri, ok? Non ho nessun sito dove vi rivelo i grandi segreti, dove vendo corsi, né nulla del genere. Non ho nessun interesse, ok? Nessun secondo fine. Ve lo dico in maniera così amichevole. Io ho fatto sta cosa, ho scoperto questa cosa, guardate che c'è questo problema, questa è la sua soluzione. Andate su ilmiolibro.it, pubblicate il vostro libro attraverso ilmiolibro.it, esattamente come Amazon ci mettete la copertina, la quarta di copertina, inserite il libro, tutta la formatazione, tutto lo stesso remation, uguale, identico, identico. Una volta che l'avete pubblicato su ilmiolibro.it, print on sale, ovvero che quando viene acquistato viene stampato in quel momento per voi, usate il pacchetto di ilmiolibro.it che costa meno di 100 euro, è una cifra abbordabilissima, perché se ci pensate rispetto alla vecchia formula del stampare, dovete stampare almeno 1000 libri e poi rivenderveli uno per uno voi stessi e così via. Sì, rispetto ad Amazon costa quei 70-80 euro di più, però capirete, voi state pagando non soltanto il servizio e la visibilità, ok? Quindi il servizio del print on sale e la visibilità su più siti, ibs, filtrinali.it, ilmiolibro.it e Amazon, ma state anche acquistando la possibilità di non aprirvi una partita IVA e di ricevere in ultimo, in ultimo, realmente solo le royalties e non dovervi preoccupare più di niente a quel punto. E non è male, non è male, assolutamente dovete seguire tutte le istruzioni che vedrete, perché c'è proprio un link che vi porta delle istruzioni di Amazon, ok? Il libro deve avere determinati requisiti per poter essere stampato anche su Amazon attraverso ilmiolibro.it. Quindi, prima di caricare il vostro libro e pubblicarlo sul mio libro, leggete, leggete questi requisiti, perché se no dovete poi rifare tutto da capo. Una volta comprato questo pacchetto, siete a posto e se non avete necessità di fare delle modifiche al libro e così via, potete pubblicarlo e venderlo su tutti questi siti, sia in cartaceo che in ebook, e non avete problemi con il fisco, che sinceramente non è male come cosa. Queste sono le mie due pillole per voi. Spero che a qualcuno di voi questo sia stato utile e spero che molti di voi, che io ho visto a decine, voi in senso generico, se mai vedrete questo video, che ho visto a decine commentare sotto i video di questi guru del self-publishing, ringraziandoli per gli ottimi consigli e sbavandovi, facendo roba. Per favore, state attenti a chi seguite e state attenzione di chi vi fidate, d'accordo? Perché nel momento in cui vi vengono date delle informazioni e dietro c'è un secondo fine, normalmente di tipo economico, state attenti. E soprattutto state attenti di quelli che si improvvisano esperti di una cosa e fanno decine e decine e decine di video e corsi, istruzioni e lezioni, pagamento gratuito e tutto quello che volete, per spiegare una cosa quando loro per primi non sanno veramente di cosa stanno parlando. Perché possono essere bravissimi a fare una determinata cosa, ma questo non vuol dire che siano esperti in tutto. Possono dire un sacco di scemenze. Un esempio è uno youtuber di cui non voglio fare il nome, perché non voglio veramente, d'accordo, non voglio cominciare dissing su questo canale, niente, che sotto decine dei suoi video ha risposto centinaia di volte, tutte le volte che le è stato chiesto, ehi, tizio, devo aprire la partita IVA per pubblicare, fare il self-publishing su Amazon? Risposta, no, non serve, perché Amazon vi dà direttamente l'eroe al tese, pensa a tutto lui. Non è vero. Non è vero. E noi venerdì ci vediamo con un video sull'argomento del self-publishing, non come pubblicazione della propria opera, ma come business, che è una roba allucinante, secondo me. Vi ricordo solo, innanzitutto, se aveste apprezzato questo contenuto e se vi fosse stato utile, vi lasciare un mi piace, iscrivervi se non vi foste iscritti, e commentare qua solito dicendomi che cosa ne pensate, se avete avuto delle esperienze in merito e così via. Inoltre, insieme ai vari link, a Facebook, Telegram, contributi vari, Paypal, del tutto liberi, eccetera, eccetera, c'è anche il link per l'acquisto del mio libro, su il mio libro, naturalmente. In questo momento che sto pubblicando questo video, non sono ancora passato alla seconda edizione, ma presto lo farò. Quindi, se lo voleste comprare immediatamente, se aveste piacere di leggere un fantasy di stampo orientale, con protagonista femminile, eccetera, eccetera, comunque ho fatto un video in cui lo spiego approfonditamente. Potete prenderla, diventerà edizione limitata da collezione, perché la toglierò al momento della riedizione, altrimenti aspettate che esca una nuova edizione che è fatta un po' meglio, mi sono fatto l'esperienza, e così via. Detto questo, venitemi a trovare su Goodreads, su Telegram, su Facebook, dove volete, e ci vediamo venerdì alle 15 puntuali.